no 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 sto tiltando tantissimo poi sono io che rubo eh sono io che rubo ricordiamo sono io sono io il lupen della squadra ricordiamo eh non è lui sono io sì 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 assolutamente sì 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 c'ha 800 danni 8 kill 22 48 di solito la vista mi torna verso le 23 23 30 vediamo mi torna parolone io top due team al primo eh se non si spara tra di loro eh non lo so non gliel'ho chiesto se tra di loro ho preso uno uno stava qua davanti qua dietro ma che porco che porco dove era dietro a una cassa cioè o è passato qua senza che me ne sia accorto non lo so vabbè eh ok minchia un gg per lui giardinio penso ho sentito dei pazzi no pensi male secondo me ma dai che cazzo ci deve essere là cioè davanti a me è entrato qua gli ho fatto un 36 blu quale hai fatto che cazzo vuol dire come ti devo valutare il microfono com'è o si sente o no boh abbastanza buono mi sembra no non ho restato prima qua cazzo qua se è vero ma tu ma lo ascolti quando parlo no stavamo fightando ma era molto prima di ingaggiare eh ti era andato via il microfono ma ti va via il microfono tipo ogni due secondi come faccio a ascoltare ma è vero ti si sente a chiazze eh vicini abbastanza qua dentro ok mi sa che era fk l'amico suo l'ha risponato stava fk lo copriva all'angolino hai visto no no allora l'avrà trascinato che cazzo ne so sicuro l'octane è rfk cioè non si è mai mosso quello è sicuro due team qua davanti quasi crackono blu one shot una sinistra gli iti brutta storia quelli davanti uno era crack non arrivano ancora da sotto no non è vero hanno preso o arrivano arriva un team dal tp da qua davanti 110 blu 110 ok l'hai preso ma uno è andato sul tetto scusa è il miraggio è il miraggio è il miraggio no 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 sto tiltando tantissimo no 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 proprio li ho presi tutti io tutti io ho preso quattro persone one shot ho fatto 154 17 tipo alla loba 171 blu ho fatto penso 170 blu all'octane vabbè ho fatto octane one shot loba one shot horizon 100 di vita un octane un altro one shot che mi sa che pure quello era mio poi sono io che rubo eh sono io che rubo ricordiamo sono io sono io il lupen della squadra ricordiamo eh non è lui sono io sì 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 assolutamente sì 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 c'è 800 danni 8 kill per una volta che è capito a me ma sei brutto ridico sì 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 sono io il lupen sono io va bene ma per una volta che è capito a me sì ho detto sono io il lupen sì 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 è che ho detto ma a te capita anche di avere meno danni di sotto le chiti io ci devo fare ricarico se vuoi arrivare eh però quello che lo prende in culo quanto hai fatto? sono siccassata la valla oh giusto avevo finito il caricatore che vai spitti perché non hai 80 colpi invece di 55 gazzo 50 50 è vero l'anno già nerfa aia senza il nerf l'avrei uccisa palese ha craccato anche l'altro devastati ha fatto anche 50 flash sì ma si fullano ormai si sparavano lì vieni che vogliamo subito lì dove? io sto tenendo no 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 aspetta aspetta un attimo devo vedere i colpi pesanti ne ha lui pesanti ok ci sto andiamo sto tenendo il lombo penso di aver dato un hit di lombo vabbè ho fatto hs però easy ci sta allora andiamo sul tetto sì sono due qua uno sta dietro uno sta dietro da quale andiamo dietro all'air drop uno è andato sotto sarei amicato uno tutti e due va bene va bene va bene cioè ma veramente quanto hai fatto anche a questi un'ottantina testa tipo allora a uno ho fatto 150 aspetta ho 1350 danni 11 kill ma di quei danni tipo un 300 sono di conferma quindi avrei mille danni 11 kill ma loro sono rincoglioniti ma gli hai fatto 150 che cazzo ti arrampichi che ci sta l'altro sopra ma vieni da me no ba no fritta era il 150 ma che s'arrampica era il ramparteloba rampa che cazzo che è non lo so io sparo io sparo non mi frega chi è sì gode eh ovvio per una volta che capita a me ma una volta sai quanti assi ho 8 assist 8 assist io 5 io vabbè ma grazie al cazzo cioè vabbè mi ho anche i tuoi per dirti le mie kill sì appunto appunto cioè io ho 8 assist però i miei 8 assist sono 180 per assist boh fallitavano qua comunque mi sembra sicuro non so no mi sembra ho detto no ho detto sicuro sono qua 100 100 non so dove davanti a me ricarico ho abbattuto quello lì non farmarti i danni però vai te lo restituisco con il prezzo ma ti hai restituisci melo allora che cazzo lo dice non lo fai eh ho capito gli ho fatto 180 non era più nella visuale non volevo ricaricare poi c'è lo di pompo ho fatto 7 e 7 dalla distanza te lo restituisco e poi gli spara vabbè ma se no no cosa ci sta uno full te ne sei fatto a fine partita gg no mi